Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, siamo qui dopo la 25esima giornata con Andrea, ovviamente Fanta Album, vediamo subito i risultati per vedere chi ha fatto meglio o se magari è uscito un pareggio. Allora, Riccardo Rodriguez che però non ha giocato, poi Aaron Martin non ha giocato, come se non bastasse, Caprile mi subisce gol, meno uno, Klassen entra ma fa zero, Tamez non gioca, X quindi, entrano Magnani, zero, Toven, zero e Zierinski che non gioca, meno uno per me. Andrea, Monterisi, zero, Mario Rui, X, quindi, non ha giocato, Kupemainers, Kupemainers più tre, ha fatto gol, e te pareva, e te pareva, e te pareva, più gol ovviamente doveva segnare, ha fatto gol, quando lo pesco io non segna, lo pesca Andrea la settimana dopo, e giustamente segna, bene, evviva, Marte Nagy, Marte Ghani, non gioca perché, perché non gioca, sarà infortunato, non lo so, Flavis, zero, chi è? Vlasic, Vlasic, zero, che entra al posto di Mario Rui che non ti gioca e quindi, tu, allora, guarda, settimana scorsa cosa avevi fatto? Meno sei, meno sei, stasettimana, cioè, è incredibile come lui, lui, settimana scorsa fa meno sei, questa settimana si impara tutto, mannaggia lui, da meno sei a più sei, quindi, settimana scorsa è come se non fosse successo niente, evviva, evviva, quindi io, rispetto a settimana scorsa, perdo anche un punto perché adesso lui torna a più undici e mezzo, vieni più in qua, caro mio, più undici e mezzo per lui, io vado a più due e mezzo, quindi scendo addirittura, il divario si allarga ancora di più, quindi questo qua ha voglia di recuperarlo e negli scontri diretti io rimango a quattro e lui va a cinque, ma certo un cazzo, ma certo un cazzo, ma cosa, certo, cioè, gli peschi sempre te quando segnalo, è ovvio, due gol, evviva, adesso, adesso, andiamo a mettere a referto, prima, a telecamera è spenta, abbiamo sorteggiato che lui pesca come secondo e io come primo, per la terza volta di fila apro io per primo, però ho paura, ho paura di aprirle perché tanto è una sfiga, io, incredibile, allora, Dio, buono, questa parte adesso la tagliamo, perché te l'hai sorteggiato? Eh, sì, perché abbiamo parlato, ok, perfetto, mi è arrivato un messaggio, allora, questa parte la tagliamo, abbiamo sorteggiato che lui pescava per secondo e io per primo perché abbiamo deciso che io avevo il numero uno e lui il numero due, ma per renderla ancora più interessante ho chiesto una mia amica di dirmi un numero tra uno e due, così sarà stata lei a scegliere chi pescava per primo e effettivamente mi è appena arrivato un messaggio, proprio preciso adesso, che ha scelto il numero uno, quindi che pesco comunque per primo io, se avesse detto la mia amica numero due, avresti pescato te per primo, sì, ok, quindi nel caso mi andasse male, darò la colpa alla mia amica, stessa cosa per Andrea, quindi sappilo, è colpa tua se ho perso questa settimana che verrà, allora, bando alle ciance e ciancio alle bande, andiamo ad aprire, allora, niente, stemma, stemma, niente, allora, Pabllo Mari, un altro del Monza, Andrea Colpani, poi Viktor Kristiansen del Bologna e, aia, un portiere, quindi speriamo bene, Alex Meret, quindi ne ho quattro, andiamo ad aprire un'altra, vediamo cosa mi capita, devo pescare il mio quinto uomo più i panchinari, allora, niente, 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 il mio quinto uomo è Ibrahim Sulemana, poi, dalla panchina avrò Andrea Cambiaso, Marco Arnautovic e Simon Kier, ok, quindi questi sono i miei, vai Andrea, tocca a te, andremo a buttare, andremo a buttare, andremo a guardare che qua ce n'è una, non devi lasciarle dentro, niente, poi, Lorenzo Spirola, ok, Cassane, Asane, Camara, Camara, Timoti, Wea, Wea, Tommaso Baldanzi, ok, quindi hai trovati i quattro, vai, apri l'altra, e qua, in mezzo, sì, così si vede, vai, Michele Cerofolini, Cerofolini, adesso hanno bastoni, no, adesso hanno bastoni, pepe, pepe, pele, pepe, 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 trans, cubr, pepe, 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 casale, Quindi queste sono le tue, adesso andiamo a scriverle, Pirola, Camara, Wea, wea, baltanzi, Cerofolini, Alessandro Bastoni, e, casale, casale, Io, Pablo Marie Colpani Kristiansen, Meret Sulemana In panchina, Cambiaso, Arnautovic E Simon Kier Ditemi la vostra nei commenti Io Non ce la faccio, non riesco a raggiungere Andrea Ogni settimana Una volta la vinco e poi quella dopo Torna avanti Ma no, non va bene Cioè, dovrò vincere Io che sono il proprietario del canale No, tu che sei l'ospite No, no Che niente, vabbè Alla prossima Vincitutto o vinco io? Mi sembra che stai vincendo te Ciao